La ricerca della legalità, l'educazione e la giustizia sociale passano anche per la lotta alle mafie. Una battaglia guidata da 20 anni da Libera, rappresentata in Piemonte, lì dove è nata, da Maria José Fava, ospite stasera dei nostri studi. Benvenuta e grazie per essere con noi. Allora, il motto di Libera di Don Ciotti è per cambiare è importante partecipare. Ecco, il Piemonte partecipa alla vostra lotta, alle vostre battaglie? Il Piemonte partecipa tantissimo. Siamo una delle regioni con più coordinamenti, con più presidi, con tantissime associazioni che aderiscono, perché dobbiamo ricordare che Libera è una rete di associazioni che si coordina sul nostro territorio, portando avanti quella che è l'educazione e la legalità democratica e la lotta alle mafie e alla cultura mafiosa che permette alle mafie di continuare da oltre 150 anni la propria attività. Ecco, purtroppo sono molto più antiche di voi. Una delle vostre recenti iniziative è quella dello sportello anti-racket. Sta funzionando? Lo sportello è nato cinque anni fa, quindi è da tanti anni che cerchiamo di lavorare su questo tema sul nostro territorio. Sono venute al nostro sportello in questi cinque anni circa 230 persone. Di queste un 13-15% è venuto proprio per raccontarci problemi collegati al racket, all'estorsione, all'usura. I numeri non sono altissimi, ma sono una conferma di quello che ci stiamo dicendo in questo momento, che le persone hanno paura a denunciare e che quindi c'è bisogno che sempre più si creino delle reti a sostegno delle persone che vogliono denunciare. Il nostro è un ruolo di accompagnamento. Non ci sostituiamo alle forze dell'ordine, non ci sostituiamo alle fondazioni anti-racket, però vogliamo accompagnare le persone che spesso non riescono da sola a fare questa scelta importante e fondamentale. Ecco, nel 2011 l'inchiesta Minotauro è stato un po' uno scoperchiare il vaso di Pandora. Da loro molto è cambiato anche nella mentalità dei piemontesi, nessuno ha potuto più chiudere gli occhi? Questa è la cosa più importante. Dopo quell'8 giugno del 2011 nessuno può più dire in Piemonte, in provincia di Torino, che non ci siano le mafie. Mafie e in particolare Andrangheta, quindi la mafia di origine calabrese, che si è in alcuni casi infiltrata, ma in altri proprio radicata sul nostro territorio, nel silenzio e poi forse nella sottovalutazione, nel sentire questo problema come un fenomeno che riguarda soltanto alcuni pezzi del nostro paese. E invece da quell'8 giugno del 2011 dobbiamo dirci che è un problema che ci riguarda tutti e dove tutti insieme, ognuno per quello che può e per quello che sa, diceva Paolo Borsellino, dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, ci riguarda tutti. L'Andrangheta è sotto casa, l'abbiamo visto tre settimane fa con un'ennesima inchiesta, 20 arresti, un altro episodio che fa appunto vedere come non si possa più chiedere gli occhi. No, assolutamente. Dobbiamo poi imparare a portare avanti una lotta continuativa. Le mafie, come ci dicevamo prima, hanno più di 150 anni e nel nostro paese hanno portato avanti le loro attività in maniera continuativa. Anche la risposta alle mafie, quindi quella dello Stato, fatto da tutti noi, deve essere continuativa. Un'ultima, brevissima risposta. Mi dica, che cos'è che fa più paura alle mafie? Alle mafie fa più paura, l'informazione e la cultura. Diceva Giovanni Falcone che non voleva un esercito di militari a Palermo, ma voleva un esercito di insegnanti. Quindi è la cultura e l'informazione che può fare tanta paura. Grazie per essere stata con noi e un bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a voi per questo invito.